Per un po' di è della stagione per la squadra tagliana di schi. Eduta a Moena si trova per celebrare questo risultato intorno a quello che di questo piazzamento è stato attore e protagonista. Con un minuto 50 secondi e 34 centesimi, Cristian De Ville si avvada l'argento a Beaver Creek. Cosita Lombolt, l'assessore a sport e chieda la cultura di Moena, il direttore e il presidente dell'APT, il presidente della Fisi del Trentino, insieme a tu un coda per già fare i complimenti su un paladino. Sottite troppa la gente che ha impenito la piazza, ghiaccio, ma anche il soraldut, moglie di amici e maestras di schi. Gente del paese che dal buon stolza di dombrar, dozzorzi, nautar campione mondiale. Il gioco fa piacere, però se non se ruo su un podio l'è giusta che non se vengono a festeggiare, quindi con il podio c'è il festeggiamento e fa gran piacere. Poi chi gioca, tanta gente, è bello. Il podio è insegnato dalla prima manche, è una gara dal buon combattuto. Il risultato è spettato da un bel tratto e zaccato in ruo. A Genoa ho ancora avuto pulito le immagini, però sì, i risultati parlano chiaro, quindi l'è giusta bene. L'è ancora delle robe da migliorare, anche il segurno, vuol dire che una gara con il podio si ruè, anzi. E gli altri si seguitano l'orare, quindi ce va lì. Ma oggi la mia dedica l'è fatta a mia mare, che l'è senzita purtroppo un'EFM fa. E aspettare l'EFM per già dedicare va di importante. E quindi la prima dedica è unica forse per ella, poi oggi forse tante altre persone, a partire da mio padre, la mia famiglia, gli amici, gli sponsor, i sostenitori, insomma, che è il segur, però anche il passa un attimo in secondo piano. Una festa, ora che è una eminciana piccola a Bastia e un bel brindisi per festeggiare che si risulta. Quanto guadagni dagli sponsor? 7 milioni di euro! Due cesti di prodotti tipici ladini, così il bocco! Che di scherzo, trizza da Lombolt a Riccardo Franceschetti, fa sonore a Dutta Laval. Penso che sia un storico di Val di Fascia, non capiamo, ma non abbiamo uno. Penso che anche gli altri due, ne poterà anche di Stefano e anche Chiara, poi ne daranno anche a me delle belle soddisfazioni. Cristian aspettano da Egn e l'Erua, insomma, a questo podio che ha fatto la sua carriera, la Uga non c'è un minggo di sfortuna e dunque crede le belle cose così, insomma. Quindi buona stossa, ma con essere stossa tutta la Val di Fascia. L'onore che tue parole vengono partire in tardi a Fascia, ma che, penso noi, ognuno fa so in privato. D'accordo con quel spirito sportivo che vengono gli atleti amici e nel modo di tempo ne amici. Una concorrenza che fa bene e che ha declarato a Ville che è stata in Gaiçà, e c'è dalla minaccia di essere passato via da Stefano Gross. Sicuramente Arel, oltre a un compagno di squadra, c'è un grande amico, è un esempio da seguire, insomma. Ma io spero che il Gaiçà vi invadisse al 7-2, sinceramente. Adesso speriamo di ruire a tre fasi a due belle mani, la via. Io, adesso che credo, sono che passa un buon momento in cennanamento e vedo che posso ruire a batterlo già lui, quindi penso di ruire a farlo in cennan gara.